Musica Pigrizia, scarso senso civico e mancato rispetto ambientale sono le cause principali dell'aumento a Milano dei rifiuti lasciati abbandonati in strade, aree verdi e zone periferiche. I rifiuti abbandonati abusivamente sono praticamente raddoppiati. Secondo dati dell'AMS, da gennaio a settembre 2014 sono state rinvenute ben 4.800 tonnellate di merci abbandonate contro le 2.600 tonnellate dello stesso periodo del 2013. I milanesi lasciano un po' di tutto, materassi, mobili, elettrodomestici, batterie, pneumatici, cucine, tavoli, sedie che vanno a formare vere e proprie discariche abusive e a volte anche pericolose per la salute pubblica. Dal Giambellino al Forlanini, dallo Stadera al Grattosoglio, ogni quartiere ha le sue strade secondarie, i suoi sottopassi o i giardinetti poco frequentati che finiscono addibiti al ricettacolo di oggetti dei quali ci si vuole sbarazzare. Il Comune di Milano ha deciso di dare il via a un nucleo della Polizia Locale che avrà il compito di presidiare le zone a rischio dove le discariche abusive sono divenute una costante nel tempo. L'assessore Pierfrancesco Marana ha detto che l'amministrazione municipale intende intervenire con decisione perché questi comportamenti sono ormai intollerabili. La multa, per chi viene sorpreso, arriva a 450 euro, ma è sempre molto difficile cogliere sul fatto chi getta rifiuti abusivamente. Per gli oggetti ingombranti e per tutte le tipologie di rifiuto ci sono cinque riciclerie in città dove consegnare gratuitamente gli oggetti non più utilizzati e poi l'AMSA, previo appuntamento, ritira anche a domicilio mobili, cucine, letti, armadi, divani, poltrone, lavatrici, tv e quant'altro. È possibile smaltire in modo gratuito sino a otto pezzi per ogni prelievo con un massimo di un prelievo al mese.